In realtà io l'avevo disturbato, tra virgolette, chiedendogli una videointervista per poi pubblicarla e farla vedere a voi alla stanza, insomma, il nostro ritrovo, la nostra piccola sede. Però ecco, alla fine, all'inizio, perché io mi aspettavo sempre il solito tipo di pubblico, quindi 10-12 persone. Oggi siamo leggermente di più, nonostante il prezzo rispetto ai soldi che faccio io è triplicato. Per cui questo vuol dire che c'era tanto affetto da parte vostra, ma soprattutto tanta curiosità. Spero che questa sera questa curiosità verrà ripagata. Allora, innanzitutto perché siamo qua? Per quale motivo? Abbiamo preso il tram, siamo usciti per l'ora di cena, siamo arrivati qua. Per quale motivo? Per fare un favore a me? Per conoscere Nino? Certo, tutte queste piccole cose, ma in realtà siamo qua perché oggi, il 2 ottobre del 1969, usciva in Giappone il primo episodio dell'Uomo Tigre. Per quale motivo abbiamo centrato questo obiettivo? Perché oggi compie 52 anni, ragazzi. C'è un cartone che comunque ancora oggi è attualissimo, nonostante siano passati 52 anni, ed un cartone pieno di valori. Questo è il terzo appuntamento che abbiamo fatto noi, che abbiamo rinominato Il Potere della Tigre. Questo tipo di evento è la terza edizione. Abbiamo passato la prima a celebrare, insomma, il personaggio di Nono Dotate e a odiare un pochettino quello di Mr. X. Non ce ne voglio. No, ma è quest'odio che ha portato di successo. Esatto. E' proprio l'odio perché i cattivi sono più amati. Esatto. Infatti è proprio questo il bel motivo che affascina comunque questo anime. Perché da un lato abbiamo un personaggio carismatico nel senso positivo, dall'altro ce l'abbiamo nel senso negativo. Entrambi sono pronti a tutto per i loro obiettivi. Però già nel secondo evento, specialmente in quello di stasera, quindi nel secondo è stato solo un approccio, stasera entreremo proprio perfettamente nel mondo dell'uomo tigre e non solo, abbiamo parlato del lato umano. Io vi confermo quello che ho detto lo scorso anno. Contattando forum in giapponese, spero di essere riuscito con Google Traduttore a tradurre bene, ancora oggi, pensate, nel 2021 in Giappone, persone facoltose, benestanti, lasciano ancora donazioni agli orfanotrofi con il nome di Naoto D'Aveo. E' una notizia vera finita sul giornale di Vittorio. Per cui, nonostante il Giappone, rispetto a quando era ambientato questo cartone, che era appena uscito dalla Seconda Guerra Mondiale, insomma era un Giappone in ginocchio, adesso il Giappone è anni luce avanti a noi, a tutti quanti. Però, nonostante tutto, c'è ancora chi perde quel momento da dedicare a questo grande personaggio. Comunque in ognuno di noi ha lasciato qualcosa. Per esempio, c'è chi lo ricorda per la sigla dei Cavalieri del Re, bellissima. C'è chi lo ricorda per il doppiaggio, tipo Valerio che è appassionato di doppiaggio. C'è chi magari lo ricorda perché i Jimboi hanno fatto una canzone parodia, ad esempio. Io li denuncerei, ma in comprensione è un altro discorso. Diciamo che alla fine ognuno fa quello che vuole, è anche arte quella. Però noi fondamentalmente quel tipo di arte la impariamo, la assimiliamo, ma la mettiamo da parte perché non ci interessa. Cosa vogliamo rappresentare con questo evento? Un evento umano, il valore dell'uomo tigre. Prego il mio assistente di mandare la suddetta sigla dell'uomo tigre. La prima sigla originale dell'uomo tigre. Passiamo qua il volume. Ok, vai. Ok, vai. Allora, mentre continuiamo a far vedere la sigla e ascoltare la musica, continuiamo a parlare perché abbiamo tante cose da mostrarvi e da chiedere a Nino che il tempo è pochissimo. Allora, già possiamo partire da delle piccole cose, solo dalla sigla. Nel 1969 la TV Asashi, rete giapponese che pubblica il primo episodio, dichiara di aver fatto l'ascolto di audience più là, più alto di sempre. Ancora non è stato battuto per il primo episodio dell'uomo tigre. Ancora imbattuto sulla TV Asashi. A distanza di 52 anni. In più, abbiamo anche un'altra piccola curiosità, perché tutti, erroneamente, chiamavano questo cartone l'uomo tigre. In realtà, questo cartone, il titolo preciso è l'uomo tigre, il campione. Molte cose sono state una piccola curiosità, non cambia nulla nella storia, però è una precisazione importante. Quindi, diciamo che qui, all'interno di questo cartone, basta semplicemente guardare la sigla per capire quanto è importante. Non è solo uno con la maschera che lotta. Tutti sono bravi a mettersi una maschera e lottare. Vinci, perde, vinci, perde. Però questa persona, oltre ad essere un grande lottatore, perde. Ed è questo quello che, su 105 risultati, perde due volte. Su tanti incontri. Però quelle due volte che perde, lo segnano profondamente. E cercherà di non apparire più, in questa, diciamo, in questa festa. Comunque, ecco, volevo concentrare questo evento anche con il mondo del cinema e del teatro. Quindi mi sono sbrigato per organizzare un piccolo intrattenimento, visto la presenza del vivo, con grande gentilezza, del signor Nino Scardina, che invito a salire con noi. Un bel applauso per il canale. Ma io non ho sentito che Draghi ha messo le tasse sugli applausi. Un applauso. Noi, 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 noi. Allora, intanto io mi permetto di prendere una sedia, in modo che così ci possiamo accomodare, e cominciamo la nostra bellissima intervista. Ecco, perché, come dicevamo prima, sia io, prendo questa, no, questa c'è il giacchetto, il giacchetto te lo ridò, eh? Grazie, posso chiedere? Un po' di rilevito. Sì. Allora, ci mettiamo, vogliamo mettere, no, io qui sto proprio davanti, vogliamo mettere un po' più avanti? Sì, certo. Così mettiamo dietro al proiettore, così. Sì. Sì. Ma, tanto io poi mi alzo, mi alzo, mi alzo, mi alzo, faccio un po' di rilevito. Dove mi ho detto? È proprio avanti. Avanti per atti, sì, perché se no siamo da enterprise, non si sa nulla. Io mi ho detto qua, proprio qui vicino. Ok. Allora, qual è la morale, insomma, di quello che volevo dire prima? È praticamente un evento che vuole incentrare l'umanità del personaggio, ma allo stesso tempo tanti valori. E secondo me, umanità, valori, dignità, importanza e cultura, soprattutto, come era dato questo cartone qua, la danno anche il mondo del cinema e del teatro. E per l'appunto, ho deciso di creare una, possiamo dire, breve intervista per Nino. Ci sono delle domande che abbiamo organizzato. Quindi, insomma, sono delle domande... Io non so niente. Lei? Non è arrivato a scuro di tutto. Noi abbiamo preparato anche tante belle sorprese per voi e per lui. No, ma io sono sempre arrivato a scuro di tutto. Esatto. Perché mi piace parlare, perché so con le pediglie. Quindi, veramente, tu devi fare la parola di tutto. È subito. No, perché noi abbiamo preparato perché io, invece, preparo sempre tutto. Sono due cose. Io preparo sempre tutto perché se no... Devo stupire questi ragazzi di oggi, perché se no... Quindi devo stupire. Allora, intanto cominciamo questa bellissima intervista con delle immagini. Per cui, se si può, riabbassare leggermente la luce che facciamo vedere un'immagine. Allora, l'immagine dietro è l'immagine di un teatro. Ok? L'immagine di un teatro che intanto è stato a tutti che intanto resto in piedi. L'immagine di un teatro. Perché? Allora, la prima domanda che vorrei porre è tutti noi conosciamo... sei conti, per favore. Anche del tutto. ma stiamo scherzando. Ok. Allora, porti. Ok. Infatti, sono due giorni e ho sempre nato te lei per cui volevo continuare questa riga. Allora, tutti noi, insomma, come dicevo, conosciamo il suo lavoro come doppiatore, come, diciamo, attore, insomma, di teatro e cinema, molto famoso. ma prima lei mi ha raccontato nei giorni scorsi che ha avuto delle grandissime dettorie attoriali e prima ci stava raccontato anche che è stato un personaggio d'avanguardia per il mondo del teatro. Sì, è stato, scusa, ho dato a prezzo. Quindi, come è cominciata la carriera di Lino Scardina e soprattutto per Lino Scardina che cos'è il teatro? La vita. È tutto. Anche qua. È diverso. La mia vita, la mia vita adesso è il mio figlio perché c'è un figlio unico perché prima non l'ho voluto fare perché fatto 5 e 3 secondi lo sapete benissimo. Però per poi vederlo e lo sai che tu non l'avrei visto mai questo figlio io. Quindi l'ho fatto a 58 anni questo figlio e praticamente l'ho voluto volere. Abita con me e adesso perché la mamma mi ha abbandonato perché ero son vecchio cioè per 37 anni in differenza sono tanti e naturalmente l'ho ragione e lui invece no. E allora praticamente lui ha voluto capitare con me e lui ha detto io sto con papà ha capito che stava meglio a te. Ha capito tutto quello che mi ha detto. Mi piace. La mia grande vita è stata il teatro fin dall'inizio. Pensate che nasco timidissimo non se ne immagino nessuno a queste cose. Io nasco un ragazzo timido da morire per accostare una donna ce l'è voluto da un fiorellino cretino bravo. La mette che mi ha detto con un famello nuovo che ci voleva un fiorellino diverso. E allora praticamente non cambia il mondo. Un amico mi disse avevo 16 anni io sono palermitano e avevo 16 anni e praticamente a un certo punto mi dicevo mi era mancato un attore in parrocchia perché regiavano in parrocchia e mi dicevo ma perché non mi ero qui? Sei pazzo? Io tutti mi dicono che vengono a fare una figura di schifo. No ma tu sei in gamba sei sempre perché ero un po' il mio figlio così concentrato su me stesso ho avuto sempre un'energia spaventosa non forza fisica ma energia l'energia è più importante della forza fisica perché la forza fisica fai calzotti fai palestra io non ho fatto mai palestra però un'energia pazzesca io ho provato fino al quarto del mattino sono andato non so in Napoli non a fare televisione a Napoli e spettacolo a Roma per quattro mesi dormendo due ore a notte quindi se non c'è energia lì proprio non esiste questa cosa la cosa più comica è che una volta uno disse ma non sei stanco io sì il personaggio è giusto che sia così insomma come comincio comincio così a 16 anni vado là faccio sto spettacolo tutti uomini perché allora eravamo in una padocia eravamo tutti uomini praticamente faccio questa cosa si chiama Villa Paradiso testo simpatico grottesco da quel momento che sono entrato io ero il personaggio avevo fatto un po' di prova mica tante ero il personaggio io avevo senza anni facevano uno di 45 quindi grandissimo ma con nessun baffo e facevo questo qui sono scattato via alla fine non ho voluto conoscere nessuno avevo una timidezza pazzesca questo rosso sono andato via con la prova via dalla porta di servizio cioè questo è durato sono stato venticino fino ai 19 20 anni e poi sono venuto a Roma questo è l'inizio diciamo e infatti proprio questo io continuo poi con la prossima domanda infatti anche io l'avevo detto nel insomma nell'ordine delle domande abbiamo messo un'altra foto nella seconda diciamo che sarà un po' lucida in volta 70 anni perché 70 anni ve lo spiego io se posso avere l'onore perché il signor Nino o meglio Nino perché nel 2023 compierà 70 anni di carriera esatto ho compiuto 16 anni quindi scusi però mi rincancio lì avete capito che ho detto 70 anni di carriera ragazzi mica dietro c'è la farmacica vendono il magnesio se c'è il magnesio aperta 24 ore su 24 no per verità ma poi 70 anni vissuti veramente dello spettacolo non è che io sono stato fuori anche durante il comico io continuavo c'è un pazzo perché io sono un pazzo non ho fatto la cicla non ho fatto nulla praticamente io continuavo prendevo treni stavo attento mascherine però non tutta sta cosa di cui mi pare continuamente perché ci credo poco perché fa male pure alla fine io c'ho degli anticorpi fortissimi c'ho un poire di carte che dice c'ho il massimo degli anticorpi al comico allora mi ha detto ma allora con il comico no c'ho degli anticorpi io penso che il covid non vorrebbe avere a che fare con mister io se fosse il covid mi farei scappato e poi allora intanto prossima foto tanto un secondino ecco questo è un microfono delle cuffie uno schermo per cui parliamo di doppiaggio a noi ci risulta a noi a me ci risulta nel 65 che ha cominciato il tuo primo approccio che non ti riesco a dare chi mi portò a doppiaggio con il senso lo sa perché non hai detto questo fu Silvio Noto voi non ci chiesti Silvio Noto era un attore presentatore della televisione parlava cinque lingue meravigliosamente bene c'era una persona tontissima brutta non piaceva la donna e la moglie era un brutto bello eccezionale profumatissimo una persona eccezionale c'aveva un leoncino in casa io andavo da lui un leone l'azione di grigolino ancora si consiglia no è vuoto è buono è un ritardatario è per noi lui è il ritardatario del gruppo c'è tanto che è arrivato non è la polizia non è la polizia no ancora no mi ha doppiato un secco carino ti dice lì ma ti vuoi dentro io non ho il piaggio perché nel teatro si vuole di fare e aveva ragione e scelta si può mantenerti anche per fare il teatro e hai capito di tutto questo uomo e di questa esperienza ti ricordi praticamente qual è stato il primo personaggio che hai doppiato? no piccole cose no per carità si chiamavano brusini allora brusini non esiste quasi più si chiamavano brusini perché ora li fanno i primatori così che era la forma praticamente noi dicevamo una barbaro per dire perché con tutti le stelle erbe venivano un macro la barbaro venivano fuori la forma e così poi piano piano cominciano a fare dei personaggi simpatici io ho fatto a parte questi il primo che aspetta che ci arriviamo ci arriviamo ci arriviamo è tutto preparato ci arriviamo ci arriviamo io ho organizzato tutto anche perché abbiamo anche un'altra foto che rappresenta la prossima domanda un uomo ombra non stiamo parlando di Pottergeist è un uomo con un punto interrogativo perché nel mondo del doppiaggio cinematografico ok hai prestato la voce a tanti personaggi fra cui due in particolare che sono Danny DeVito e Jim Wilder esatto ok qual è stato fra i due il personaggio che ti è piaciuto di più con la tua voce sopra beh Jim Wilder ci somigliamo fra cioè gli occhi per esempio ci somigliamo fisicamente e poi avere il grottesco ho fatto tanto teatro comico anche all'inizio ora no ora meno perché lo fanno tutti ma al inizio ho fatto tantissimo teatro comico uno dei più grandi comici che abitava a Roma in coppia con lui per sei anni Simbio Sparcesi vorrei un applauso io sono stato un attore formidabile voi non lo volete ricordare non lo sapete che era la specie di Tocco di questi qua di inventare scena che stagli accanto erano con una difficoltà paurosa e noi lavoravamo in coppia quindi al inizio sono spappa di Simbio poi scrivono per noi autori come Montanelli Guzzati Campanile scrivevano per noi tradizioni dei gatti udici perché nessuno sa che Montanelli ha fatto gli atti udici grotteschi anche buzzati Campanile non è capace Campanile mi ha regalato addirittura una cosa che si chiama gli innamorati sono dei flash che io porto ancora in giro negli anni 30 mi ha detto ma lei ha capito il mio spirito con un monologo questo canto è confusento lei ha capito un monologo è stato un monologo un monologo è sempre stato presente comunque nella tua vita è sempre sempre anche perché sono i conti udici in realtà quindi in realtà questa è la realtà da tanti mi hanno altri sono i conti udici nel destino un monologo e quindi forse c'è stata questa cosa io sono tutte le cose perché sono da un lato d'aria al massimo c'è capito c'è capito ci sono due componenti come sono toro e ascendente variette vanno accornati fra loro dentro di quindi pensate che succede è un casino è un casino io mi definisco praticamente un po' come capitano Arlock loro sono la mia arcadia della giovinezza cioè praticamente tutti i personaggi che magari hanno tipologie un po' diverse dalla massa sono sempre bene accetti nel mio gruppo ho fatto un complimento quindi grazie è un po' particolare io non ho le sue condizioni però tutti insieme alla fine siamo 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 sempre bene noi sappiamo che comunque tu non hai lavorato con con Bud Spencer però io essendo anche il presidente di un fan club dedicato al ricordo di Bud Spencer io so tu sei amico dei doppiatori però lavorano con loro però io no io so un'altra cosa io so che tu hai collaborato in un film a mezzanotte va la ronda del piacere che era di no che era di Michele di Marcello Fondato il regista Marcello Fondato è il regista di altrimenti ci arrabbiamo per cui per cui una domanda visto che purtroppo non ci ho avuto nessun riscontro per quanto riguarda questo cinema su questo film voglio sapere più o meno com'è stato lavorare con Michele Fondato perché Marcello 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 era bravissimo era uno preparatissimo Marcello uno dei registi più preparati meno noto di altri registi però veramente preparato tecnicamente certo c'erano due dive Monica Vitti e Claudia Cardinale che erano molto amiche però questa amicizia questa è bello questa amicizia al momento del girare e non scusate non scusate la toccatrice perché avrei bisogno c'era una lotta di venti le bambi a classe mi piace stare qua perché non c'è si vedeva un sacco di venti e una cosa che è carina ti può interessare io lavoravo in quel film insieme a Spacesi anche lui che lavoravamo in teatro siccome Monica Vitti aveva fatto l'accademia insieme a Spacesi però come ando che si diceva ma Scandina non è contento c'era sì ma lui entra che ti vedo di dove stare tranquillo che lo trovo pronto allora andiamo avanti con la prossima domanda ecco qua aggiungere altro mi sembra superfluo perché qui torniamo al doppiaggio ehi amico che succede? perché negli anni 70 negli anni 60 è quello che non divertiva di più più di Mr. Hicks Nino Scandina è stata la prima voce in assoluto di Buzz Bunny però la domanda la domanda non è finita perché io faccio sempre domande complesse allora negli anni 70 ti avvicini al mondo dei gatti animati con Buzz Bunny ok dal 70 c'era 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 Gigi proietta e voletta conci perché Gigi faceva il gatto il gatto è il gatto c'era Gigi Titti ma c'è il segno ma lo possiamo però ecco per tanti anni sei stato il doppiatore di Buzz Bunny 7 anni ma l'avevo preso a Franco Latini che lui passò a Baffi ma l'avevo preso questo scambio perché io facevo anche Baffi prima e l'avevo preso non so che dire no no in realtà sì in realtà e poi praticamente poi mi trovavo più giusto come bocce c'è sempre una roba fra me Franco Latini e quello che mi ha rompato un sacco di personaggi che aveva sapendo i doppiaggi e fatto di cooperative allora secondo chi prende il film poi c'è i suoi attori i suoi doppiatori di personaggi resta di Lionel c'era una lotta così cioè mi dicevo no bene però apparentemente perché praticamente aveva la stessa voce quasi di certi personaggi e tanti per la storia anche perché era la cd quindi è per questo che non l'hanno presa nel doppiare l'ultimo space jam perché la voce di Bugs no quella è cambiata proprio è cambiata il disegno no perché infatti io il disegno non è Bugs ma è più se lo guardi bene è più come si chiama quello del Roger Rabbit somiglia più a Roger Rabbit non è più un pazzo questo come io credo si fa vivace mi sono divertito tanto forse è la cosa più bella mi dispiace per il mister che sia il mister che lo sofferto molto non le parleremo no perché infatti la mia domanda finiva con vissuto che c'è stato anche il doppiaggio di Duffy Duck cioè alla fine sia Duffy Duck che Bugs Bunny sono due personaggi completamente diversi e come è stato doppiare diciamo i personaggi che sono entrambi completamente diversi noi siamo abituati a fare tutto questo è il discorso l'antore deve essere abituato a fare il salire tutto e lo stesso anche il doppio errore praticamente siamo abituati a fare cattivi buoni quindi non è difficile non è difficile per niente per noi cioè era facilissimo il discorso però io mi trovavo più felici a fare Bugs Bunny perché uno che dava le fregature era un simpatia bene allora andiamo avanti con la prossima immagine è qua ovviamente ecco qua dopo questo primo approccio questo è un'altra cosa importante che io vorrei chiedere perché questa è una domanda che non so se è mai stata fatta però io leggendo anche tutte le cose che hai doppiato tutto quanto Mr. X credo che sia l'unico personaggio non positivo che ha doppiato perché Mr. X è proprio cattivo no no cattivi non fatti altri cattivi però nell'animazione intendo cioè così tanto come Mr. X perché alla fine Mr. X è stato doppiato più o meno per 90-95 episodi su 105 della serie per cui insomma però ti spiego che succede questo la domanda infatti era come cioè nel senso come è nato il progetto Mr. X l'ho chiamato gli amici che conoscevo praticamente Marco Poletti che faceva lui il ruolo tigre e poi l'altro che aveva la produzione beh decisero però io giusto non fece neanche provino dicevo che ero giusto io e andai a farlo 8 e mezzo del mattino non 9 come ora il doppiato ma le 8 e mezzo io andavo a mettere 3 sempre 3 e mezzo perché dopo si cena dopo l'ospettacolo pensate un passaggio per Mr. X è ammazzarti la voce da come l'ho preso io questa voce questa forse nessuno sa non ci portavo l'ho vinto a qualche intervista ma presi da Emilio Cicoli io non ho mai invitato nessuno però chi ci voleva ci voleva Emilio Cicoli era uno dei più grandi doppiatori che aveva doppiato John Wayne di questi qua gente delle due testi mi raccomandano ragazzi aveva questo tipo di voce che vicini ti fa Mr. X se voi sentite bene una volta mi ricordo perché lui ti dava del lei e pretendeva il lei era proprio vecchia maniera era un ragazzo era un giovane di fronte a lui che era grande anziano una volta c'era una battuta eravamo insieme a leggio era un western era accanto a lui e lui disse ci vediamo al comando ragazzi scusaci mi chiede scusi ma non è quartier generale ti faccia i fatti suoi scaricati mi piace tanto perché era quasi un personaggio d'altri tempi cioè una volta mi ricordo una cosa e fino a un tempo in televisione faceva un afficcione un sceneggiato allora non si chiama afficcio sceneggiato praticamente tremata cioè mi accorsi io mentre faccio il personaggio tremata la vanda la vanda fa tutta però era una bravura il piaggio era il numero uno era falso più mi ricordo i film francesi io adesso ero 5 e mezzo no scaldino dico alle 5 e mezzo mi sento che non sia così lei faccia come dico o non ti ma dico e se la ciro però diciamo ecco per esempio io credo che sia difficile infatti il senso anche della domanda era anche questo cioè comunque io quando l'ho visto la prima volta eravamo da un'altra parte un'altra circostanza con gli amici del gruppo con Hermes con Hermes Quadri che è praticamente il boss del nostro gruppo dove faccio parte anche io e c'è anche il Cima che fa parte praticamente dell'Italian Cosplay Tana delle Tigri praticamente è un gruppo che racchiude tutti i cosplayer italiani con tema Uomo Tigre ok per cui ci siamo anche noi ci sono vari personaggi e quindi insomma però ecco ci siamo visti sempre disponibile solare allegro 90 episodi a essere veramente uno che rompe le scatole col bastone il monocolo e il cappello è stato veramente un grande lavoro e infatti nonostante l'uomo Tigre abbia poi avuto il cambiamento della voce che nessuno ha mai capito perché anche perché secondo il mio punto di vista la voce di Dinelli era molto meglio prima quando l'uomo Tigre era più giovane rispetto a dopo quando era più grande perché ha una giovane per chi non lo conosce praticamente Dinelli è il doppiatore ufficiale tra tante persone di Logan Atkinson Mr. Bean per cui ha quel tipo di voce praticamente insomma un po' più giovanile mentre il signor Marco ha una voce un po' più da adulto e però secondo il mio punto di vista magari a te le è piaciuta di più da affidare Bugs Bunny scusami però io credo una cosa io ho un altro grande doppiatore che stimo tantissimo che è Alessandro Lelossi che secondo me lui è perfetto per la voce di Optimus Prime e ovviamente di Arnold Schwarzenegger però secondo me un doppiaggio perfetto come quello di Mr. X non c'è perché la tua voce secondo me è perfetta per quel personaggio cioè proprio ogni volta a me ogni volta mi piace cioè per me mi hai chiesto perché poi poi non lo so però mi hai chiesto perché eh no infatti sto qui apposta perché mi dovrebbe piacere così tanto ma adesso registrata lo vedo perché è importante perché vengono al teatro gli altri sono basta vengono al teatro diamo un'anima al personaggio gli altri sono dei doppiatori tecnici è tutta un'altra cosa e io quindi che all'inizio in tutti i doppiaggi venivano al teatro ci ho lavorato con Laura Cazzolo che sembra il papà di Cazzolo che praticamente era il vecchietto dei Westerberg mi aveva detto capitano Smith e quindi grandi Pavese questi qua erano i grandi venivano tutti al teatro questi qua avevano lavorato con il fotografo hanno lavorato in guerra tutti oggi sei figlio un doppiatore e poi sei doppiatore ma che fa scherzare ma studia prima capisci che cos'è perché tutto viene dal teatro la prima cosa è il teatro quando io non ho scuola la settanta la prima cosa è il teatro non è il cinema tutto quello che si ripete il doppiaggio si può ripetere dovrebbe fare venti volte il cinema si può ripetere il teatro non si ripete il teatro è da una volta perché lui alla fine è un raccomandato è raccomandato è raccomandato praticamente questo personaggio si chiama girato nessuno se lo ricorda per il semplice personaggio ecco questo personaggio praticamente fa parte della seconda serie dell'uomo tigre la seconda serie praticamente è ispirata col mistero delle piramidi ok abbiamo doppiato nella prima serie questo qua no no questo qui è la seconda è un doppiato in una seconda sì sì eh sì diciamo che purtroppo questo cartone è stato un po' diciamo la commercializzazione del come dicevamo prima no il discorso del pa tu sei figlio di il figlio di di Gachi Guara creatore del primo uomo tigre ha deciso di fare questa seconda serie dove praticamente ci sono personaggi nuovi ok e dove c'è un bambino della casa degli orfani che prende il posto dell'uomo tigre tale Tommy Aku in realtà nel primo cartone era Kenta perché poi come possiamo dire nel nel flashback di questo secondo uomo tigre si vede per esempio un bambino vestito come Kenta solo che però si chiama Tommy poi è stato americanizzato alla grande perché l'uomo tigre si allena con una tigre e c'ha la macchina che se spinge un bottone si trasforma tipo quella del rispettore gadget per cui insomma questo secondo uomo tigre di 33 episodi non ha avuto molto successo bisogna dire la verità però la serie non era male l'animazione era molto più bella però ovviamente niente a che vedere con il primo e questo qui è un personaggio che è sempre uno sgherlo un cattivo che ha sempre la stessa voce di mister x quindi la tua magari non te lo ricordi perché è una bella esperienza da togliere però il personaggio era praticamente uguale identico a mister x solo che però arabo ovviamente perché il cattivo era un petroliere famosissimo a sun nonché anche lottatore però fondamentalmente il ruolo era lo stesso e la voce più o meno il timbro uguale e il ruolo del personaggio identico forse mi facevano un doppione quando facevano mister x mi facevano fare anche un'altra cosa ma non mi ricordo adesso il buono è perché questo qui perché questo qua poi comunque insomma se ce ne sarà tempo vediamo un video su youtube così ci troviamo il dubbio però ecco comunque questo personaggio infatti la risposta me l'hai data involontariamente perché volevo sapere perché secondo te questo cartone non ha avuto tanto successo però se non ti ricordi è anche il doppiato perché una cosa di l'azione c'è quindi andiamo avanti lasciamo perdere facciamo finta di niente un'altra domanda insomma questa qua ecco qua c'è l'immagine c'è un'immagine dietro di una signora che consola una ragazza perché questa è una domanda importante ne abbiamo parlato quando ci siamo visti l'altro pomeriggio no questa no questa no anche perché onestamente onestamente non è diciamo che ancora lasciamo un attimo no lasciamo un attimo il discorso e il doppiaggio secondo te il teatro il cinema o l'arte in generale quindi anche pittura fotografia tutto quanto possono salvare le persone e potrebbe essere ancora una forma di pacifica protesta due cose possono salvare il teatro e la musica sono le cose terapeutiche da morire non di andare ai psichiatri ai psicologi a tutti quanti no io che insegno tanti anni ho salvato delle video male cioè qualcuno se l'ha buttato la settimana ha avuto un coso così a salvarsela cioè praticamente io l'ho salvato e gli ho fatto avere poi il diploma perché secondo come chi ti insegna perché oggi esistono questi strani laboratori che l'hanno drittata la mia non è un laboratorio è un'accademia questo è il discorso io la chiamo accademia perché ti fa le basi se qui non ci sono le basi cronogi il palazzo come abbiamo visto altri palazzi che cronano perché non ci siamo le basi tutto questo praticamente nel laboratorio non c'è il laboratorio che cos'è io mi metto in mente di come fare un lavoro chiamano le persone li faccio pagare li faccio il lavoro e credo l'hanno imparato l'onda tranne del contesto non hanno imparato a fare gli attori hanno imparato quel testo che volevo fare quindi è un imbroglio cioè questo l'ho denunciato da te di tutte le interviste e la crema sono le basi può essere rogioso all'inizio l'ortofonia che non insegna più nessuno l'ortofonia cioè li potrebbero mettere una bocca addirittura non la dizione basta la psicotecnica che non è improvvisazione è di più che improvvisazione quindi tutto questo cioè io vi pregherei gratuitamente vi vorrei una volta a lezione la lezione di vostra vita anche domani mattina di mattina forse vado più a mio figlio perché devo fare tutto io la spesa quindi la mattina cancelliamo pomeriggio andiamo molto d'accordo anche su questo perché anche io la mattina una volta devo fare mille cose è il mio figlio giustamente cioè i gatti però ne rimasta uno ne avevo cinque sono morti tutti non c'è uno solo cioè tante cose da fare invece da un po' per il gioco io sono qui a Civitarecchia continuamente perché non abito più a Lomeabitano a Disco da 2003 poi un giorno ve lo racconterò ora non mi c'è il tempo però se potete ci mettiamo d'accordo con lui rapidamente la lezione di costruzione poi che vuole rimanere il prezzo è bassissimo stare tranquilli perché un prezzo ci vuole perché è la mia professione non è che non ho mai fatto la doppia professione è questa è la mia professione io non ho mai fatto e la mia doppia professione è il doppiaggio ma sempre a partire agli attori insomma non è mai stato il discorso di aver fatto altre cose nella vita ho avuto coraggio perché non era facile ma allora non è facile oggi ma non era facile neanche allora credetemi un bel incoraggiamento adesso visto che si è intromesso il nostro amico Giovanni io farei vedere un'altra immagine che è questa i sette samurai nel suo lavoro ha avuto a che fare nel tuo lavoro cavolo ha avuto a che fare con doppiaggi riguardanti il cinema giapponese essendo profondamente legato a questo tipo di cinema ti vorrei domandare se a livello interpretativo e narrativo ci sono state grosse differenze artistiche fra i nostri prodotti dell'epoca e i prodotti giapponesi guardate perché davano la luce e uno uscìva fuori che era mezzo morto perché poteva usare tanto il diaframma e di dove mette anche la cola perché noi usavamo il diaframma e quindi io mi sono metto cosa questa luce una volta mi trovai perché capivai facevo mi svegliamo la mattina alle 5 e mezza andavo a fare la televisione poi giravo come intertorni un film in centro qua di Roma poi dopo passavo al doppiaggio la sera ce l'avevo spettato c'è vado giù prendi freddo per questo cambiamento l'aria la perdi io e Scena parlavamo stesso e tutti rimanevano scioccati il telegolo era così questa era la mia voce così arrivavo là e parlavo perché io parlo di diaframma continuo a fare il diaframma cioè la colla non la tocco proprio quindi ti sei salvato ma tu pensate l'unica cosa che ho è una dentiera adesso ma la dentiera non la fisso non è fissata riesco a parlare lo stesso perché mi dà fastidio mettere la cosa con la pastetta lì perché esce fuori da ultimati ma che sia praticamente è l'unica cosa che mi mancano sui denti completamente anche perché non riuscivo a lavarmi mentre il mondo al giorno proprio non avevo tempo di farla e allora è stata cane di qua cane di là sono caduti piano piano e con 85 anni qualche cosa deve mancare cioè manca pure il pisello perché è una posta perché tutto però qualche cosa deve mancare di detenzione se no che so che è un Cristo cioè comunque prossima foto questa è una risposta perché voglio che arrivi direttamente ai ragazzi è una risposta molto breve e visto la tua incredibile esperienza dappertutto ti volevo chiedere quali sono le cose che servono oggi per un giovane attore che vuole raggiungere non dico essere bravo l'eccellenza la volunca la volunca prossima prossima foto e poi ci abbiamo una sorpresa per Nino cinema macchina da presa nel 2012 sei tornato sul grande schermo con la pellicola è stato il figlio molto breve molto bravo il regista molto bravo il regista ti volevo chiedere visto che era parecchio tempo che non lavoravi su un sette cinematografico prima di quell'esperienza volevo sapere se l'avevi trovato un po' diverso e se l'hai trovato diverso se era meglio o in peggio io ho trovato diciamo amico in questa professione non ci sono amici ma ho trovato Tony Servillo che è stata una persona che mi è non mi immaginata io non avevo la sua popularità se non mi ha fatto Tony Servillo per me sul sette non mi è immaginata cioè quando noi eravamo ospiti di Albano a Scendino San Marte li senti nel sole tutto il giorno cioè praticamente vai a letto senti stai a parte e non puoi dare con lo smidere che senti a parte continua se non ti piace Albano non puoi andare se non sei ma eravamo lì lo trovo e non era negli due eravamo omosessuali quindi praticamente lo trovo dietro con una bottiglia di champagne e che succede che c'è torri io non tu parti domattina ci hai finito oggi la cena è a nome tuo in onore tuo cioè Tony Servillo c'era per me è un rassistico non per cinque ma te è un bravissimo bravissimo è un mustro è un mustro cioè che fa una nostra del genere il secondo che capito io ho lavorato con i grandi perché ho lavorato ma lui neanche lo sapeva orandone valbertazzi con i più grandi lavorati come attore però poi mi sono messo per conto mio e ho perso pure la casa a Roma perché abitavo in Prati ho perso una casa di 120 perché stavano a rispondere perché questa l'idea raccontata che mi avevo la conto del mio ma non è la conto mia la conto delle istituzioni di tutta questa cosa e la volta che mi sono voluto mettere accanto le istituzioni bisogna essere per conto mio e lottarle le istituzioni ora le 8 4 8 infatti ma meglio e quindi dico io ho un grosso nome a Roma negli anni 70 80 anche se fino al 60 ma un grosso nome ma attenti mi fermava e viene il territorio viene il corso e dice scantino dove è questo anno che è il altro stato c'è fatto difenda di una città come Roma che se ne fottono che è romano dice qui sta il padre il tasto chi è che mi frega e dicono dove sta quest'anno è una cosa eccezionale quindi non c'è la mia prima si perde perché se tu nidi a più all'interiorità e non all'esteriorità dei signori Vino Banfi Montesano che hanno fatto tutto facendo sempre le stesse cose Vino Banfi è un amico per carità però fa sempre se non fa così se non fa la pugliese odio i dialetti infatti vi ho detto io che ero siciliano se no voi non me lo accorgevate nemmeno io odio i dialetti a meno che non usi i proietti eduanzo e filippo è un'altra cosa il dialetto fatto da quelli non è lo stesso di Brignano non è lo stesso di Maurizio Battista no è un'altra cosa è un altro gradino e allora quello mi sta bene questo mi interessa il dialetto gli altri no il teatro è italiano io faccio Shakespeare Pilandello Cekhoff e non puoi usare il dialetto cioè non esiste capito sta cosa e quindi bisogna capirlo bene se no Mario Scaccia prima di morire mi disse poco prima ma tu c'è sempre la scuola ma tu devi fare la scuola per il pubblico perché proprio non capisce nulla e te sapete capi aveva ragione nulla non ci capisce più è vero e quindi praticamente è lì che bisogna lottare perché la lotta è interiore è tutta un'altra cosa vabbè sono video allora adesso ci abbiamo una piccola sorpresa per Nino che è un video un primo video quindi per favore Andrea abbassa leggermente la luce se no non si vede quindi Nino ti prego ti portati e c'è un bel video che mettiamo che è rinominato sorpresa 1 che è un video dedicato a noi e a noi ciao a tutti ciao ragazzi ciao tantissimi auguri a voi che in questo momento la Roma state festeggiando niente popò di meno che l'uomo tigre Tiger Man Tiger Man 52 anni di storia un cartone che non conosce età e che sicuramente continuerà ancora per altrettanti ma che dico ancora di più anche 200 anche 200 tra di voi però intanto salutiamo tutti voi ciao ragazzi ciao ma ci dovrebbe essere anche un ospite c'è lui il nostro carissimo amico Nino Scardina ciao Nino ti mandiamo un grandissimo abbraccio grazie per la tua disponibilità io ho ancora i suoi single di Mr. X grazie mille ormai ormai sei rimasto nei nostri cuori sei parte della storia di noi di GoToDisco quest'anno festeggiamo 18 anni fatte le magliette fatti anche i nostri cognomi comunque Nino anche tu fai parte dei nostri 18 anni di storia quindi ancora grazie un abbraccio in bocca al lupo perché sicuramente stasera li farai divertire tutti poi ovviamente è un pozzo infinito di sapere è un uomo di sapienza di GoToWeek finissi ammazzate eh sì ciao Nino e poi è il nostro Bugs Bunny ufficiale c'è solo lui c'è solo lui ciao Nino un abbraccio da GoToDisco ciao ciao un piccolo saluto che abbiamo voluto fare perché giustamente c'era un piccolo omaggio da parte di cioè mio perché se non fosse stato per Simone non avrei mai avuto il contatto di me è Simone infatti è quello che viene a Gaminana esatto Simone è Simone della radio esatto infatti mi ha dato il suo numero e allora ci siamo conosciuti quando è stata la Gaminana che sarebbe diciamo a Villa Niedi se voglio quella non sono andre quella che abbiamo con l'accordo con l'unica cioè che andiamo veramente d'accordo avevamo la stessa età stessi ricordi noi ebbero tre volte in tre anni a farne l'intervista di cose senza che ecco perché mi sembra sì infatti infatti però appunto mi ha detto mi ha detto lui di chiamarti mi ha dato ma prima ha chiamato te chiedendogli se poteva dare il tuo numero e poi è stato tutto un giro insomma però eccoci qua va bene comunque la prossima domanda che era quella dopo il cinema quella l'immagine questa vabbè diciamo che questa la possiamo saltare perché l'hai ampiamente detto perché era la domanda che volevo chiedere lo so che magari è difficile c'era la risposta però ce l'ha data già il tuo personaggio preferito che hai indoppiato in generale però mi hai detto che era Bugs Bunny quindi per cui mi divertiva mentre lo facevo capito e poi non è come quello che ho preso la voce a Cinco lì l'ho inventato proprio cioè nel senso l'ho visto e mi è venuto da se scuola l'ho avuto un gran successo anche misteri specialità sono i due più di grande successo gli umani però ti sei dimenticato un umano importantissimo che non è un protagonista del teatro francese eh sì però infatti infatti tornando tornando me ne sono ricordato però non mi veniva il cognome Jacques Taddy Jacques Taddy ecco mi ricordavo Jacques io fu sfortunato perché quando lo doppiato nel girofilme fa pata patto poi ci hai messo a fare il mimo l'ha detto malissimo difficilissimo a doppiarsi fece un pochino ah un pochino per esempio ha perso con il cicloiettile che ci chiamavamo sempre insieme a fare i proiettili Lenny Lenny Dustin Hoffman perché tornavamo veloci tutti e due e chiavi veloci e chiavi e li abbiamo fatti insieme e ha vinto lui in tante volte mi cagliero adesso di lui per carità i proiettili si sa vince chi è più aderente come volete al personaggio sia come voce anche nel cinema vince chi è più aderente come conto sai quanti film di sorpresa ha perso la protagonista perché magari non era convinto il regista per il tipo di conto eh vabbè quello poi ha bravura gente non guarda è anche un discorso visivo sì infatti è un discorso visivo vai prossima foto questa qui è la lucandina del nuovo anime dell'uomo tigre che si chiama Tiger Mask W è uscito nel 2016 e praticamente prosegue i fatti di Naoto Date ok quindi è ispirato 46 anni dopo la prima serie nonostante tutto molti personaggi non ci sono più ce n'è rimasto uno della serie originale però non si sa per quale motivo è ricicciato fuori un Mr. X uguale identico al precedente per cui la domanda è semplice è uscito nel 2016 lasciamo perdere il covid si sa che comunque prima escono in Giappone poi passano milioni non è doppiato non è doppiato io le faccio la domanda semplice è semplice torneresti a doppiare Mr. X se ce la faccio ancora sono 38 episodi ne appare nella metà quindi diciamo che perché sai è tanti così si è perché ho fatto due battute così devi tenere un ritmo di voce perché non è tanto semplice preferisco un spettacolo che entrava alle due ore e mezzo io che ho fatto ancora a Civitavecchia prendendo questo premio alla carriera che mi hanno dato praticamente perché grazie un applauso così per la carriera perché l'abbiamo voluto dare e beh è stato bello per carità un pazzo come me poteva inventare sei spettacoli in un mese e mezzo due l'ho fatto io gli altri no naturalmente uno è un mio ex San Diego che è un grande del cabaret tra l'altro Gabriele Marconi se qualcuno lo conoscerà partiva con la Carrà prima che conoscerlo io qua da sopra si è parto con la Carrà con Sabani era stato già in televisione quando vede qui da me mi disse Gabriele qui non dovrai invitare mai una parola qui facciamo teatro tu non limiti nessuna per tre anni come me non ha mai il cabaret è venuto lui prende 1500 euro minimo al giorno dovunque va da me è venuto a creare tutti i cammini e per me non voglio niente ma è dato già tanto ha detto lui perché praticamente io ho fatto direttore io penso che hai dato tanto anche a noi stasera grazie che mi dà tanto amore a me invece non è il discorso che fa il mondo sano assolutamente cioè non faccio il discorso che il pubblico ha bisogno di un attore non ha bisogno di un attore sono tutte retinate l'attore recita perché sente ritardo per se stesso sì certo se c'è il pubblico è più contento basta ma l'attore non ha bisogno di nessuno l'attore c'è questo poco personale sono onestamente sono onesto in questo gli altri fanno di ruffiare e basta si ruffiavano e io ho sentito chiuso il sipario dire babba così l'attore e questi grandi i grandi alcuni grandi non tutti hanno carità ma l'attore del pubblico non è vero perché io per esempio i proietti lo vedi eravamo io un altro ancora non è famoso il Coriolano di Shakespeare l'avamo in due in un diatrino a Roma vicino piazza massimi in due l'avamo due colleghi non c'era nessuno che poi non ha fatto i peloni l'ha perso perciò si è messa a parlare palesco perciò si è messa a parlare questa cosa a me vogliono questo dicevano ma da me ti dico ma perché tu non hai bisogno del palesco del dialetto tu sei bravissimo ti è più bravo uno di tutti noi dicevo io no vogliono questo e lui ha pure con peccato però con intelligenza non con gli altri con meschilità a volte ho visto panfi mi è rimasto male io che vivo alla Dispoli Laura Antonelli è morta lì perché stava alla Dispoli e lui era amico di Laura Antonelli sai come è arrivato in chiesa scortato dalla professione civile ma che Giorgio Bruno non credi Deniso ovviamente stanno scherzando sta scortato dalla professione civile io mi sono messo a ridere poi io lo disse e dice servono queste cose servono ma che cosa serve e poi si è messo con la cadavere lì con la tomba là a parlare dei suoi film in chiesa diciamo ognuno ha il suo pensiero le sue cose però alla fine noi diciamo che concentriamoci su altro non parliamo queste cose brutte perché è meglio perché poi mancano 4 domande con questa che faccio e poi c'è un'altra sorpresa questa è un'immagine dell'uomo di ok questa è la domanda dell'ultimo del primo questo è del primo e quindi io faccio una domanda ad una delle mie belle complicate io ti vorrei porgere questo paragone preventendo ribadisco che siamo qua per ricordare il cartone animato ma soprattutto per conoscere tante cose interessanti da raccontare da te questo cartone come dicevo all'inizio ha insegnato molti valori a 5 generazioni possiamo dire quasi 6 perché comunque ormai abbiamo intrapreso la sesta generazione accompagnando la vita di tutti insomma noi fan dell'uomo tigre tu hai avuto la possibilità per una vita intera io ho scritto tanti anni ma una vita intera di far parte del mondo del teatro e del cinema è possibile ritrovare oggi valore umanità esempio come lo si può ammirare nell'anime dell'uomo tigre io mi auguro di sì mi auguro di sì non è facile questa cosa questa domanda è molto difficile mi auguro di sì mi auguro che esistano ancora persone come me qualcuno c'è ancora ma pochi diciamo che veramente faccio questa professione per lasciare qualcosa non per portare questa roba io perché insegno tutti i segreti perché c'è gente che si vuole portare la tomba e questa è una cosa terribile invece no dobbiamo andare avanti dobbiamo andare io e questo per questo vogliono bene i texanieri perché vedono che io lo danno tutto per loro tutto orari cose non guardo nulla perché praticamente bisogna andare avanti con una certa dignità con educazione che oggi non esiste più non perché sono vecchio dico questo ma perché è importante perché io gli allievi ci tengo più che siano educati tra loro che siano bravi perché bravi si diventano si diventano tutti si può essere bravi quindi c'è che siano bravi che più bravi è questa è la vita siamo tutti così ma educati verso l'alto io andrei via lo lasciatevo in stampa fare la sigla la vita andrei a Charlotte quando avevo 22 anni 22 anni praticamente il terzo anno ho portato il primo anno come merda praticamente allora mi dicono ma lì è uscito Manfredi Boazzetti Palelli sì ma erano bravi per conto loro e erano bravi già loro io prendo gente che parla male che non si sa muovere e li faccio diventare bravi quello è importante non che tu mi vieni bravo cioè poi andiamo io era la più facile del mondo era la drittata più facile del mondo quindi io spero che parla sempre meglio il mondo che va male perché va male per il clima va male per mille cose per diecimila cose per la cultura va male anche quella io dico sempre una cosa lo dico sempre a loro e continuerò sempre a riprendere questo mondo è troppo social e poco sociale esatto è bellissimo è troppo intanto io mi cavolo alla polire se voglio gente a teatro o che mi scrive mi piace ho condiviso un po' di miei ieri cioè avete capito non me lo dire a me Nino ho passato due giorni di fuoco non me lo dire a me non me lo dire a me tre volte mi hanno chiesto la stessa locandina uguale ma l'indirizzo dov'è te lo dico io te l'ho scritto ma è questo l'indirizzo no guarda non ti do l'indirizzo in un altro posto ti mando a un'altra parte lasciamo perdere e l'altra domanda questa qua riguarda sempre ritorniamo con la foto di prima non è un errore è voluta il metodo odierno di doppiaggio è molto differente da quello degli anni 70-80 è pazzesco io mi ricordo i film di Fellini che doppiato quando non erano quelli che si trovavano doppiati perché erano proprio uno scherbo Fellini ha anche un'amicizia praticamente perché lui che è un attore non mi appunto mai il cinema se no tu non mi serve una volta mi viste ho detto non sei per i miei figli quando gli siamo conosciuti di doppiaggio gli ho detto ma l'amicizia è così il metodo è diverso perché ti devi sivo è più difficile perché devi beccare il numero non è più che gira gira e rigira e tu lo provi due o tre volte e poi lo fai no devi beccare il punto giusto è molto più veloce tutto quanto la tecnologia tutto quanto è andato avanti naturalmente però per noi anziani era più difficile già qualche anno fa a cacchio non ne potevo più perché io ragazzi stavo nove ore in sala del doppiaggio la sera facendo lo spettacolo ed ero felice di avere lo spettacolo perché se ero a casa ero così morto è strana questa cosa è strana questa cosa è stranissima però tu mi aggiungi nove ore io che non ho macchina giravo nei pacchi per l'uno dalla sala all'altra oggi io conosco i world da ragazzini e sono bravi sono bravi anche cantante figuratieri ma anche lui andrea 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 c'è un'altra ragazzina e mavera Rossi le conosco i bambini il mio figlio che è entusiasta che cazzo ha le matri le cose le conoscono le bambine questi figli ovviamente ed era un'altra cosa era un'altra serietà un'altra cosa oggi si scappa è tutto veloce capito una tecnica più lunga forse le itzo hanno mantenuto così perché sono testo è così ta ta cioè praticamente le itzo hanno mantenuto una certa serietà mi sembra una risposta abbastanza completa no? vediamo al nostro esperto lei è soddisfatto di queste domande? assolutamente sì anche le risposte sì sì allora adesso abbiamo proprio una domanda diretta precisa parere qui abbiamo da una parte una autotata il primo una autotata dall'altra c'è il luogo tigre questa è una domanda insomma sei stato molto diretto hai detto chi ti piace chi non ti piace insomma magari ti piace un po' meno allora io ti faccio una domanda come dicevamo prima l'uomo tigre è stato doppiato da Bossetti e poi da Di Melli Bonetti scusate c'è il lapsus ha passato in guai e morta la moglie erano uniti in una maniera ragazzi erano un bel pagina era una coppia formidabile io non ho avuto mangi il coraggio di personale perché a quel punto che mi dice io la parola con quell'anze non uso io dico sempre un abbraccio non mi piace la parola con quell'anze è mai usata più che altro è una parola molto classica molto classica la dicono tutti come diciamo come se uno non sapesse cosa dire lui Di Melli io lo conosco ha lavorato con me abbiamo lavorato insieme ma Di Melli non voglio fare Di Melli è un po' così Marco è così Marco è con me Di Melli giocava anche con noi con i figli quindi praticamente io preferisco Marco Bonetti Marco Bonetti perfetto allora noi con la scusa facciamo vedere un video che abbiamo preparato noi è un video registrato che dura poco quindi non vi preoccupate non ci addormenteremo non ci addormenteremo dura un minuto circa forse un minuto circa che è dedicato al personaggio di Nao Totale io prego aspetto un attimo il nostro regista prego Anno Di Girazzi devo vincere per il bene di tutti panna delle tigri cadrai mister X ti sto cercando naturalmente lunga vita a Nino Scardina mister X un saluto da Marco Bonetti ciao Cristian e viva i Preneste Studios e poi ci abbiamo l'ultima domanda e non è finita con le sorprese ragazzi ce n'è un'altra ancora ce n'è un'altra anzi altre due la prossima e l'ultima foto ci sei tu a teatro quindi dopo tutto questo racconto tutte queste belle risposte che ci hai dato molto oneste bisogna dire la verità ci puoi dire chi è oggi Nino Scardina chi è un vecchio un vecchio di 85 anni che c'è chi è a parte quello che va bene c'è un lavoro alle spalle enorme che mi ricordo tutto ancora non ho una grande memoria come prima però i testi che ho fatto io per esempio il 23 sarò a Civitavecchia a fare il bel e il personale di Pirandello e Ciappa parla malissimo però ho fatto tante volte non Ciappa ho fatto sia Fifi sia il delegato spanoso sia Ciappa negli anni ho cominciato a 26 anni per fare Fifi quindi è un testo che ho fatto tante volte qui lo dirigo pure da tempo ormai lo dirigo quindi lo dirigo pure con gli allievi ci vengo molto se vado a fare un viaggetto il 23 guardi io faccio il giorno a 20 a Civitavecchia se avete la macchina in 4 per 1 mi divertite è un lavoro eccezionale è uno dei lavori più belli di Pirandello in Doletta Solani si è vero cioè vedete mi fa piacere cioè attraverso tutto per sapere appunto io mi dico il 23 è un sabato se non avete c'era in giro e vedete veramente un buon spettacolo cioè ancora adesso ce la faccio organizziamo un pulmino ci andiamo andiamo un pochino o se no con le macchine ci si va cioè non è mica tutti i giorni riceve un invito finché finché mando un messaggio io e diceva a me che lì si ce l'ho per le pade lasciamo lì ciao arrivo invece insomma un invito un invito eh voglio diciamo a dedicarvelo a farvi capire con quanto amore faccio quel personaggio pensate che mi sono commosso perché tre anni fa mi invitavano gli studi filandelliani alla casa dove è morto il filandello e dove è vissuto il filandello che sta vicino Piano Unicano un attraverso Piano Unicano praticamente vado e va e vedo la macchina a scrivere il letto dove è morto il salone tutto quanto mi viene in mente c'erano dietro i fondi ma c'erano la mia moglie i pezzi più classici il monologo che c'è a lui al primo atto e dico questa cosa nella stanza di filandello che fa una mandata via a Facebook l'hanno mandata l'hanno mandata cioè praticamente un'emozione che io l'ho trovato dalla vita perché ormai sono vissuto la vita io non ho più a decina trevato da giovane cioè però abbiamo dirigendo nello cielo ti va un po' perché ti incazzi fino all'ultimo secondo cioè fino all'ultimo secondo ti incazzi con la prima attrice o con quelle che rompono sempre le scato in modo la genia e praticamente e all'inizio c'era però ormai c'è tanta tecnica anche in me quindi mi posso incavolare tre secondi prima essere perso ancio o tre secondi capito e ormai c'è questo però io preferivo prima perché io entravo in scena e quando uscivo dalla scena non mi ricordavo più chi ero chi non ero e quindi cioè questa esperienza che ho fatto come erano i miei figli di miller che è un lavoro e avevo degli attacchi da pedicite gravissimi avevo i miei figli avevo il mio figlio anzi un anno di meno 26 a 27 praticamente entro in scena faccio questo giorgio che è protagonista di un altro intero del secondo atto dolore è passato c'è passato dolore atroce e con la terapia del teatro che non c'era dopo cavo da male però io in quell'asso di tempo che passava un'ora a quell'altro dove aveva 50 minuti un'ora mi è tornato via perché ero personaggio non dirigevo io ero 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 giorgio e come allora ho ritornato qui perché ora mi indirigo io stesso in scena so quello che dico so quello che mi hanno addirittura c'è troppa tecnica anche però ci vuole perché all'eternia se no non si riesce da più fai piccoli dati ma se fai il totale misti il cervello deve navigare bene io perché insegno sanislaschi cosa che insegnano tutti non sanno chi era sanislaschi è quello che ha inventato il cervello perché il periodo di fronte lo stesso periodo di schizzer di tutti i psichiatri è il periodo dell'ottocento e lui nasce in quel periodo e si ritrova come oggi come oggi vive il teatro cose inutili gente che si angrappava le tende poi le prendiamo in giro ma era così e gente che diceva il cuore faceva così il cervello faceva così cose vecchie vecchie ma che c'è bisogno di questo ci vogliono 50-50% cuore e il cervello non è che ci vuole solo il cervello se non si capisce niente c'è due giochi insieme così e poi credere chi crede vediamo chi sia rispondenti chi crede veramente in tutto quello che fa la domanda la facendo vabbè dopo chi mi sa rispondere io l'ho fatta le domande quindi rispondete voi io mi prendo faccio come chi crede veramente in tutto quello che fa siamo tutti in portone i bambini se non rimane il bambino dentro deve rimanere un bambino e può essere grande un uomo una grande che capisce dei bambini il bambino è ammattato e tu devi credere ti ha ucciso sono sparato devi crederci capito e i bambini che fanno lo sappiamo tutti anche che figlio ha fatto se non è guardato del genitore dagli amici non si diverte sotto sotto ha bisogno di essere guardato questo papà sono notati piccolo piccolo e questo è praticamente questo questo è saniflaschi saniflaschi hanno visto un paraocchi ma anche momenti tu non lo scherci basta che credi quello che fai e lì la naturalezza nasce da questo non essere attore finto che parla bene no normale noi abbiamo tutte le corde addosso dobbiamo solo usarle ne usiamo una forse due se tradiamo sono due però le corde ce le abbiamo tutte io sono un po' leccato esco qua e posso ammazzare qualcuno io so oppure divento cretino tutta un'altra le corde ci sono tutte bisogna saperne usare ogni volta deve suonare una corda questo è importante questa è una bella domanda se avete lì lo scherzo non vi applauso ecco che questo deve imparare perché non si fa lo fanno solo i russi ma sapete perché? perché ti ha il mantenuto dal popolo russo non che paga il biglietto base ma anche il tutto proprio dai russi ancora dura accadono quelli che li contengono ma noi ma chi ce lo tiene? se ci contengono non perdiamo la casa comunque fate affidare comunque allora le domande sono finite noi adesso abbiamo un altro video registrato precedentemente da altri amici che avevano il piacere di essere presenti qui che non hanno condito ma io i giorni ho fatto ho perso pure qualche baffa però prego signori mi raccomando un incontro leale e corretto signori prego postazione prego postazione prego grazie signori pronti a voi match ring band x sei un fallimento totale ancora non hai potuto uccidere l'uomo tigre come ti avevo ordinato ricordati hai ancora poco tempo le tue scuse non contano più uccidi il traditore o tana delle tigri la sua più grande vendetta l'avrà su di te prima di tutto stavo scherzando naturalmente un caro e grande saluto al mitico Nino Scardina la voce di Mr. X io mi chiamo Hermes Quadri e sono il presidente di un fantastico gruppo il primo ideato e creato dedicato appunto all'uomo tigre e cosa dire speriamo di rivederci presto un grande abbraccio Nino sei sempre nei nostri cuori mio e di tutto il gruppo Tana delle tigri Italian Cosplayers ciao ciao a tutti from Sansone Toro Feroce Tana delle tigri Italian Cosplayers bye bye forza uomo tigre e un grande saluto al grande maestro Nino Scardina dal vostro cavi case un saluto al grandissimo Nino Scardina da uomo tigre secondo e da Tana delle tigri Italian Cosplayers ciao Nino un saluto da Mr. Fudo e ricorda Mr. X che Tana delle tigri non vivrà il mio nome è Maya ma sono conosciuta anche come Miss X di Tana delle tigri Italian Cosplayers voglio mandare i miei saluti a Nino Scardina e approfittarne per mandare una comunicazione importante a Mr. X Mr. X non si preoccupi Tana delle tigri prevarrà i traditori i traditori i traditori verranno puniti e questi sono alcuni degli amici di Tana delle tigri Italian Cosplayers che hanno voluto lasciare un salutino Hermes Hermes è una persona eccezionale io lo conosco da ormai un paio di italiani sono mio al zucchero sono mio al zucchero sono mio al zucchero sono mio al zucchero ed è veramente una persona che si dà tanto da fare per ricordare sia l'uomo tigre ma anche i lottatori del wrestling degli anni 80 organizza tanti eventi in tutta Italia soprattutto quindi il primo che noi in gioco siamo questa cosa è Mirko Fogleschi e Mirko è formidabile è bravissimo un grande suonatore un grande cantante bravissimo è un trio e lui va a cominciare a chiamare tutta un duca alla Romitz dappertutto tutto un giro così perché alla fine noi come detto io personalmente e tanti penso ormai anche tutti i ragazzi che ti hanno conosciuto un po' meglio questa sera alla fine ti vogliamo bene proprio per questo perché oltre a essere Mr. X sei tanti altri personaggi a me piace molto Mr. X perché sono legato all'uomo tigre però sento Bugs Bunny magari doppiato da te non è che non mi piace però sono più legato a Mr. X ovviamente però tutti alla fine ti vogliamo bene proprio per questo motivo perché rispetto a tante altre persone e io ho avuto modo e maniera di collaborare con persone anche diverse sia nel mondo del doppiaggio che nel mondo del cinema non è facile trovare non sono tanto sempli non sono tanto sempli e poi rispondono sempre un po' a mezza bocca mentre invece Lino è stato semplice preciso e diretto e ci ha dato tanti insegnamenti per questo io che è un po' a mezza grazie 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 voglio farvi capire la difficoltà per questo forse mi amo di fare Bugs Bunny e Mr. X sono due cose vocali completamente diverse due proprio giochi di voce noi dovete sapere che abbiamo tre voci abbiamo una voce di tetto una voce di maschera una voce di testa fare gli innesti non è tanto semplice Mr. X che sia una voce di tetto morirai buono tigre perché parte da qua naturalmente Bugs Bunny sta qui sta tra la maschera e la testa e gli amico che succede e quindi sono lontanissimi proprio fisicamente senza il difficile perché un doppiatore ti fa sempre uno stile poi io l'ho studiato anche con l'Eghe cioè non è che è difficile fare un'altra voce completamente mi chiamavano perché riusciva a fare mille voci e non sono un imitatore mi divertivo da giugno così tra amici però non in teatro a fare un grugno non so un po' tognazzi gli invitavo abbastanza però non è non è quello è il discorso proprio dell'impostazione vocale che è precisa perché questa è la bellezza di queste tre voci che abbiamo noi il distributore e il diaframma naturalmente un distributore di benzina che ci porta la voce qua ci porta qua ci porta qua guardate significati questo perché la voce di tette è più intima vai con una ragazza al ristorante e parla così è chiaro che gli stavano e tu c'è già l'uomo guardi ti licenzi di quando a casa a secco a nome di candela è chiaro che ho usato il tetto io ho lavorato con uno che forse ve lo ricordate qualcuno più grande Alberto Lung che è una luce eccezionale come no canto a combina la famosa canzone parole 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 ma io c'ho la laurea di altro Alberto mica sto qui a pettinare bamboli e io andiamo praticamente è questa è la voce di basket invece quella che sto usando io con voi perché è quella che usa i conferenzieri la più facile che si apre la bambola la più stessa è signora per favore no la chiave non dimenticare devi andare qui perché sennò diciamo signora per favore come gli altri musici ma porta io non so la porta io in un attimo ma porta io trovai questa cosa ho pensato ero in accademia ancora uscito se voglio fare una prova in un bar c'erano sempre il professor aveva un teatro che era una cucina se voglio essere chiaro vediamo cosa è successo mi fa un caffè per favore ma ha servito subito praticamente quello capitava le voci della gente quello c'era il caffè ma mia mogione cioè non si capiva nulla di quello che dicevano agli altri se io ti chiaro arrivi subito e gli stai seguiti abbiamo finito sì abbiamo finito però c'è l'ultima sorpresa c'è una pietrice ogni volta ogni volta che il disturbano in modo onesto di nuovo il signor Nino come lo chiamo io ormai 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 il signor Nino non mi distrutto e gli chiedono sempre ovviamente di doppiare qualcosa dal vivo in presenza di tutti e io che so da meno scusate non c'è l'ultima quindi ho portato Mister X però attenzione quale Mister X ho portato ho portato Mister X della terza serie la quale Nino non sapeva proprio neanche dell'esistenza per cui non è che doppierà Mister X così come tanti come quello abbiamo già sempre visto magari per chi ha cercato comunque su YouTube il Mister X originale ma quello nuovo quindi io presterò la voce che praticamente del personaggio di di Maya che è la ragazza che avete visto nel gruppo che è praticamente Miss X che sarebbe una nuova subalterna quindi io nella mia vita ho sempre sognato di essere cazziato da Mister X vedo quindi adesso questi sono sono che si realizza io sono un dobbiatore certo l'ho scritto io a mano perché un mio amico anziano che mi ha anziano ormai non c'è più da parecchi anni si chiamava Ettore mi ha sempre detto il professionista non faceva questo lavoro il professionista va sempre in giro con carta e penna e nonostante siamo nel 2021 carta e penna mica mica al volo al volo proprio ci abbiamo tempo se no c'è tempo ancora poi ci sono un po' di tanto io devo uscire da qua e tutti noi dobbiamo passi vale 11 e 10 ah sì sì ma tanto il pezzo dura due minuti poi salutiamo tutti e smonto e va allora però il pezzo è quest'altro prima c'è questo sono due allora il video sta qua come ci vogliamo mettere e come il vergino e bella domanda guarda se io qui ci vedo ok io pure ci vedo io devo dire tre parole sono un po' emozionato però attacca vai avanti permesso aggiornavi sulla situazione subito ad oggi il 70% dei rottatori della GMV provengono tutti dalla Tana delle Tigri non mi riferiva agli Stati Uniti voglio sapere come conoscete in Giappone mi perdoni mister X vi assicuro che Tiger Mask sarà presto battuto basta con le scuse dimmi quella che sai sì credo sia un lottatore che odia a morte la GMV il mondo è pieno di lottatori che ci odiano il problema è che combatte con il nome uno tigre e oltretutto quel nome suona come una bestegna per Tana delle Tigri 50 anni fa il nostro capo grande tigre fu battuto il vecchio mister X morì di disperazione Tana delle Tigri cessò di esistere e proprio quando Tana delle Tigri è pronta a tornare al suo splendore ecco riapparire un'altra tigre in serocità un lottatore che si fa chiamare uomo tigre non può essere ignorato come desidera signore il Max Dom è quasi pronto sarà incontro alla sua figlia quella sarà la sua tomba perfetto un nuovo uomo tigre apparso nel ventunesimo secolo siete voi che dovreste aver paura perché io non commetterò lo stesso errore capito? diversi avete visto il piloccio che ho fatto no? direi che facevo lo vino di burro praticamente e me l'hanno fatto doppiare in inglese poi ho saputo sia io che Benigni ci hanno ridoppiato a me l'hanno ridoppiato Magatti perché l'inglese non era perfetto a me mi è avvenuto è stato mio figlio c'è un coach però non è perfetto l'inglese io non ho paura di cese quindi lo recendo un po' vero fatto in inglese va beh ragazzi allora abbiamo appuntamenti uno qui ci vediamo una volta così pomeriggio quando si vedete ci mettiamo d'accordo e uno ha citato il 23 ottobre quello è preciso perché voi la parlate e quella perché sono e poi cerchiamo di vederti il più presto possibile perché ci tengo molto a fare una lezione visto che siete così appassionati vi ringrazio molto no diamo un ringrazio grazie grazie grazie